Dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro il Torino e anche le parole di Maldini che chiudono un po' il mercato dei rossoneri, oggi c'è poco di cui parlare. Quindi ho deciso di portarvi una top 5 dei gol più belli che ho recuperato di tutti i giovani talenti del Milan, incluso Primavera, Under 18, 17 e giocatori in prestito. Quindi i giovani talenti che stiamo coltivando, una delle poche cose che possiamo rallegrarci in questa giornata che oggi per noi minalisti, come dicevamo, è testa bassa e lavorare per i giocatori. E noi non ci rimane che attendere la prossima partita, sperando in una ripresa soprattutto di tutta la squadra perché veramente in pochi si sono salvati ieri sera. Al quinto posto in questa speciale classifica comunque questo bel gol di Gabriele Alesi segnato nella Youth League contro il Chelsea. Mi è piaciuto molto perché se lo vedete è molto bravo ad anticipare l'arrivo del difensore, situazione nella quale per dire Leao ci ha messo un po' di tempo prima di imparare a concludere prima di sinistro o tirare sul primo palo di destro senza doversi per forza controllare, accentrare e tirare. Qua vediamo Alesi che io lì me lo aspettavo non così reattivo nel tiro, invece è stato bravo proprio ad anticipare l'arrivo del difensore. Una bella azione di contropiede, vittoria importante in Youth League grazie anche appunto Alesi. Vediamo tutti andare a trionfare e un bel gol. Qua è stato uno dei momenti in cui questo Gabriele Alesi mi ha sorpreso perché proprio gli ho visto fare un qualcosa, non dico da grande calciatore, ma di un livello sopra rispetto ad altri. Perché quei tocchi di punta ad anticipare proprio il tiro e spiazzare quindi il portiere e l'arrivo dei difensori sono pochi calciatori che hanno la mente fredda per fare il momento giusto. Quindi bravo Alesi, quinto posto per questo gol. Quarto posto invece Marco Lazetich con questo bel dribbling, lui invece ha preferito concludere di sinistro, anche in questo caso era partito in vantaggio rispetto al difensore. Qua non ve lo posso far vedere perché per problemi di copyright devo ridurre un po' i tempi delle immagini. Comunque era partito in contropiede, lui invece ha preferito rallentare, dribblare e andare a concludere di sinistro. Bel gol del nostro Marco Lazetich in quel momento stava giocando nella primavera. Ovviamente già che in prima squadra poco lo possiamo vedere. Questo invece è il gol segnato recentemente da Elilali. Andatevi a vedere se volete il mio video che ho fatto proprio la scorsa settimana. Gran bel gol di Elilali che ci ha permesso comunque pareggiare una partita difficilissima. Lo vediamo qua dal limite dell'area, una botta sotto l'incrocio. Bravo, bravo Elilali che ricordiamolo in scadenza di contratto quest'anno. Quindi bisogna starci attenti che non ce lo freghino. Non credo che sia un futuro campione, però è buono tenerli perché comunque è un prospetto interessante. Non si sa mai con questi giovani fin dove possono arrivare. Qua vediamo invece il secondo posto che gli ho voluto dare a Lorenzo Colombo. Partita con l'Italia Under 21. Guardate che golasso che ha fatto Lorenzo Colombo. Giovane in prestito a Lecce. Grandissimo gol. Spero il prossimo anno di vederlo in rosso-nero, dargli qualche minuto. Il primo anno aveva iniziato bene, subito con un gol e poi si era un po' fermato. Si è partito in prestito, giocato bene all'inizio, male dopo. E quest'anno invece sembra che stia trovando un'ottima continuità anche dei gol in Serie A. Bella botta di sinistro di Lorenzino Colombo. Primo posto, invece a chi glielo diamo, tutti aspetterete Camarda. Camarda invece non ve lo porto perché sennò mi bloccano il video. Adesso spero che non mi blocchino questo video con questi giovani. Spero che non mi vengano a fare denunci di copyright. Però con tutti i video di Camarda ho ricevuto proprio richieste dal sito del Milan di tirarle via. Quindi immagino che sia proprio il Milan che vuole mantenere un certo riservo su Camarda. Quindi su Camarda non vi porto i gol. Però ha fatto bellissimi gol. Se volete andare a vedere sul mio Twitter trovate il link qua sotto. Come anche il link per iscrivervi a Sorare. Mi raccomando, sto aprendo anche un canale secondario dove ho già fatto diversi video. Trovate il link qua sotto dove insegno appunto a giocare a Sorare. Andiamo avanti. Questo è il gol invece di Bonomi. Una botta da fuori area. Purtroppo è un po' tagliata l'immagine. Nel mio Twitter la trovate a schermo completo. Come vi dicevo, però un gol veramente veramente bello di Bonomi. Che adesso qua, come vi dicevo, è un'immagine un po' tagliata per problemi di copyright. È quello che posso fare. Ma il calciatore si trovava proprio 5-6 metri fuori dall'area. E ha tagliato una botta sotto l'incrocio nel primo pallone. Andatelo a vedere sul mio Twitter se siete curiosi. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo domani. Speriamo con buone notizie. Come sempre, un bel mi piace al video. E ci vediamo alla prossima.